Si cerca di andare al supermercato il meno possibile, magari suddividendo i giorni e cercando di prendere solo quello che è disponibile durante la giornata ed è giusto consumare senza andare a comprare prodotti che vanno a finire raccolta indifferenziata. Io faccio molta attenzione a quello che compro per evitare sprechi perché mi dà molto fastidio che il cibo venga buttato perché credo molto nell'ecosostenibilità e quindi penso sia veramente importante che le persone imparino a tarare quello che comprano. Non buttiamo niente, possibilmente recuperiamo tutto e per quanto riguarda quello che non riusciamo a mangiare vediamo di trasformarlo diversamente. Sta attento quando fa la spesa? Sì, anche perché con i stipendi che abbiamo oggi stiamo molto attenti, cerchiamo di riciclare un po' tutto insomma. Noi abbiamo un supermercato di fronte piccolino e facciamo la spesa giornaliera quasi due, tre, quattro volte alla settimana, poi la spesa grossa nei supermercati più corposi. Cerco di guardare di non sprecare nulla e di risparmiare possibilmente visto il periodo in cui siamo. Quante volte va la settimana? In una settimana quante volte va a fare la spesa? Una. Quindi compra tutto il necessario in una volta? Sì. Ed è cambiato il suo stile di vita con il tempo? Magari si è resa conto che sta sprecando meno cibo, sta buttando via meno cibo? In genere io non spreco, cerco di non sprecare perlomeno, almeno mi è stato insegnato dai miei genitori. Cerco di comprare i prodotti che sono in scadenza, quindi in modo tale da risparmiare per certi versi e anche non mandare sprecato il cibo.